Quante batterie servono per un inverter da 3000 Watt? In questo video cercheremo di fare chiarezza per capire il numero di batterie necessarie per far funzionare un inverter da 3000 Watt a 12 Volt. Voglio spiegarti come calcolare il numero di batterie richieste, mostrarti lo schema elettrico dell'impianto necessario per collegare l'inverter alle batterie, calcolare il valore dei fusibili da utilizzare e consultare la tabella con le sezioni dei cavi più comuni nel settore dell'energia a 12 Volt. Prima di iniziare però ti invito a mettere un like, iscriviti al canale e di attivare anche le notifiche così da restare sempre aggiornato sui nuovi video in uscita. Grazie mille a tutti coloro che lo faranno! Quante batterie servono quindi per far funzionare un inverter da 3000 Watt? Per prima cosa dobbiamo scegliere se utilizzare batterie al litio oppure le batterie al piombo. Vediamo insieme le differenze. Le batterie al litio hanno una capacità di scarica pari a 1C, il che significa che la corrente di scarica è normalmente uguale agli ampere nominali della batteria. Ad esempio, una batteria al litio da 100 A può scaricare 100 A. Le batterie al piombo, invece, hanno una capacità di scarica pari a 0,2C. Questo implica che, per non danneggiarle, la scarica non dovrebbe superare mai il 20% degli ampere nominali della batteria. Tuttavia, per brevi periodi, è possibile scaricarle a correnti superiori, ma farlo normalmente comprometterebbe la durata della batteria. Quindi, una batteria al piombo da 100 A, inclusa quella a GM, ha una scarica massima consigliata di 20 A. Passiamo ora all'analisi del nostro inverter da 3000 W a 12 V. La prima cosa da calcolare è la corrente di scarica massima necessaria per farlo funzionare. Sappiamo che la potenza è uguale a Volt per Ampere, il che significa che possiamo calcolare gli Ampere, dividendo la potenza per i Volt. Quindi, dividendo la potenza di 3000 W per 12 Volt, otteniamo 3000 W diviso 12 uguale 250 A. Pertanto, un inverter da 3000 W richiede una corrente di 250 A. Se utilizziamo batteria litio per raggiungere i 250 A, dobbiamo collegare in parallelo tre batterie, da 100 A ciascuna. Questo ci permette di rimanere entro il valore massimo di scarica, che in questo caso sarebbe di 300 A. Quindi, con tre batterie litio da 100 A collegate in parallelo, siamo a posto. Ma cosa succede se utilizziamo le batterie al piombo? Per le batterie al piombo abbiamo detto che ogni batteria può fornire al massimo 20 A senza danneggiarsi. Questo significa che, per soddisfare la richiesta di 250 A avremo bisogno di 12,5 batterie, arrotondando 13 batterie. Sono davvero tante, non è vero? Per un inverter da 3000 W con un assorbimento di 250 A e batteria al piombo abbiamo calcolato che servono 13 batterie. Con 13 batterie da 100 A ciascuna avremo teoricamente un'energia disponibile di 1300 A ora. Tuttavia, per le batterie al piombo, sappiamo che possono essere scaricate al massimo del 50% della loro capacità senza danneggiarsi. Questo significa che l'energia effettivamente utilizzabile sarà 1300 A diviso 2 uguale 650 A ora. Dividendo i 650 A ora per l'assorbimento di 250 A, otterremo una durata di circa 2,6 ore per il nostro inverter. Per le batterie litio, invece, con tre batterie da 100 A collegate in parallelo, l'energia disponibile sarà di 300 A ora. Poiché queste batterie possono essere scaricate completamente, la durata sarà 300 A diviso 250 A uguale 1,2 ore di funzionamento per l'inverter. Passiamo ora allo schema elettrico per il collegamento delle batterie a litio. Per un collegamento corretto dobbiamo utilizzare tre batterie, due bus bar, uno per i positivi e uno per i negativi, un porta fusibile con il relativo fusibile, l'inverter. Per il collegamento uniremo i poli positivi delle tre batterie con i cavi della stessa lunghezza e li collegheremo al bus bar positivo. Dal bus bar positivo utilizziamo un cavo più spesso per collegarlo al porta fusibili e successivamente al positivo dell'inverter. Ripetiamo lo stesso procedimento per i poli negativi, collegandoli al bus bar negativo. In questo caso il fusibile non è necessario, poiché va installato solo sulla linea positiva. Se non vogliamo utilizzare il bus bar, possiamo fare un collegamento in parallelo diretto. In questo caso è fondamentale distribuire i cavi in modo equilibrato. Per il polo positivo colleghiamo ogni batteria in parallelo e da un morsetto positivo di una batteria portiamo il cavo al porta fusibili e quindi all'inverter. Per il polo negativo seguiamo lo stesso schema, ma prendendo il collegamento dal polo negativo opposto. Questo approccio garantisce che le tre batterie rimangano bilanciate. Se il collegamento fosse eseguito in modo diverso, le batterie si scaricherebbero in modo non uniforme, compromettendo il sistema. Adesso calcoliamo il valore del fusibile da installare sulla linea. Il fusibile deve proteggere una linea da 250 A. Per garantire una tolleranza di sicurezza del 20%, moltiplichiamo la corrente nominale per 1,2. 250 A per 1,2 uguale 300 A. Pertanto il fusibile da utilizzare deve avere un valore di 300 A. Passiamo ora alla tabella riassuntiva delle sezioni dei cavi di potenza per sistemi a 12 V. In alto troviamo le tre lunghezze. Un metro e mezzo, due metri e mezzo e cinque metri. Di seguito, la capacità massima di corrente per alcune sezioni. Un cavo da 10 mm può portare 55 A su 1,5 m, 45 A su 2,5 m, 22,5 A su 5 m. Questo è chiaramente insufficiente per la necessità del nostro impianto. Un cavo da 16 mm quadri può portare 85 A a 1,5 m, 72 A a 2,5 m, 36 A a 5 m. Salendo di sezione abbiamo 35 mm quadri, 50 mm quadri, fino ai 75 mm quadri, capaci di gestire correnti più elevate. Se l'inverter è posizionato vicino le batterie, entro un vetro e mezzo, possiamo usare un cavo da 50 mm per il collegamento al bus bar. Se la distanza supera questa misura, sarà necessario passare a un cavo da 75 mm quadri. Per i collegamenti tra una batteria e l'altra, essendo le batterie generalmente vicine, potrebbe bastare un cavo da 35 mm quadrati. Con questo abbiamo concluso la spiegazione del sistema. Spero che il video ti sia piaciuto. Ricordati di iscriverti al canale, lasciare un like e restare sintonizzato. Presto troverai tanti altri video interessanti. Grazie e alla prossima!